le rocce granitiche sono una vera sfida per i free climber un appiglio può rompersi all'improvviso e la loro tipica granulosità le rende dolorose e taglienti i graniti sono invece ottimi per l'arredo urbano e domestico tagliati e lucidati mostrano una gradevole struttura olocristallina composta da diversi minerali a volte di dimensioni maggiori e in ammassi di un unico tipo di minerale sono i cristalli che si sono formati in antichi bacini salati ormai evaporati come il salgemma o alite dalla tipica forma cubica più comune di quanto si pensi il salgemma si forma anche nelle saline infatti non è altro che cloruro di sodio il sale da cucina questo minerale giallo è zolfo i suoi cristalli ricoprono le pareti di una fumarola vulcanica che esala gas sulfurei ma la quantità di zolfo così originato è esigua infatti per scopi industriali si usa quello derivato da trasformazioni del minerale gesso in zolfo recuperato in miniere o estratto da grandi profondità con sonde speciali questi sono solo alcuni esempi di ambienti favorevoli alla formazione dei minerali ma non sono gli unici scopriamo uno alla volta i modi in cui può cristallizzare un minerale se risalendo dal mantello il magma resta intrappolato nella crosta il materiale fuso si raffredda lentamente in profondità prima di raggiungere la superficie gli elementi che lo compongono formano diversi composti chimici che si organizzano in strutture ordinate che costituiscono i cristalli così crescono i minerali quanto più lentamente si raffredda il fuso tanto più grandi sono le dimensioni che i cristalli possono raggiungere un magma che cristallizza in profondità forma grandi cristalli proprio come nelle rocce intrusive olocristalline invece una colata lavica che si raffredda in superficie forma piccoli cristalli e se il raffreddamento è troppo rapido non cristallizza affatto diventando solida in forma di vetro vapori caldi ed esalazioni vulcaniche possono formare minerali per sublimazione la temperatura dei gas che provengono dal sottosuolo è più alta di quella delle rocce superficiali quindi quando gli elementi sospesi nei vapori toccano la superficie delle rocce passano direttamente allo stato solido aggregandosi in cristalli nelle soluzioni acquose la precipitazione comporta la formazione di minerali a seguito dell'evaporazione di un golfo marino di un lago salmastro una crosta di minerali ricopre l'antico bacino scomparso ma un precipitato si può formare anche in altro modo ovvero se il solvente si raffredda progressivamente mentre la temperatura dell'acqua diminuisce si riduce anche la sua capacità solvente e la soluzione diventa soprassatura inizia così la cristallizzazione di specie mineralogiche che rispecchiano la composizione chimica della soluzione di partenza minerali sono anche alcuni prodotti di attività biologica quando un mollusco forma la sua conchiglia altro non fa che sottrarre sostanze all'acqua per esempio carbonato di calcio e trasformarle in minerali come la calcite con i quali si accresce il guscio allo stesso modo si accrescono le ossa di un vertebrato che aumenta di dimensioni infine qualunque minerale generato da uno qualsiasi dei processi appena descritti può trasformarsi in un minerale diverso pur restando allo stato solido infatti se le condizioni di pressione o temperatura o di entrambe subiscono grandi variazioni gli elementi contenuti nei minerali cambiano la loro disposizione spaziale e formano nuove specie mineralogiche così si è formata buona parte dei preziosi marmi usati nell'arte e in architettura le rocce formate da uno o più di questi minerali spesso compatte e resistenti si estraggono nelle cave di particolari aree geografiche sottoposte in passato a specifiche condizioni geologiche ora mutate ma quando smette di crescere un minerale naturalmente quando vengono a mancare le condizioni necessarie alla sua formazione cioè quando cambiano la temperatura o la pressione o se almeno uno dei suoi elementi non è più disponibile la vista di quello che resta può lasciare senza fiato e il risultato del processo di mineralizzazione può essere spettacolare nelle forme e nei colori nonché fondamentale per la vita ma i minerali non sono solo spettacoli della natura essi costituiscono infatti risorse fondamentali come materie prime di larghissimo impiego e indispensabili per la vita inoltre studiando nella struttura e le caratteristiche un geologo può risalire alla temperatura alla pressione e alla concentrazione degli elementi presenti durante la loro formazione e interpretando queste informazioni una dopo l'altra possiamo ricostruire capire conoscere la la storia della terra